Di solito il campanello d'allarme è qualche riunione dove i toni si sono fatti un po' troppo accesi, si litiga, si litiga spesso e infatti il clima non è più come quello di una volta, si respira un'aria diversa. Recentemente qualche talento è uscito dall'azienda all'improvviso e questo ci ha lasciato più di qualche dubbio. Ora, la cattiva notizia è che questa è solo la punta dell'iceberg e dovuta ad un'organizzazione che magari oggi non è più adeguata per questo contesto di incertezza generale, magari non lascia più esprimere la persona come prima. Ma la buona notizia invece che ci si può lavorare, infatti il workshop che organizziamo si chiama organizzazione agile proprio perché tende a risolvere questo problema, tende a creare invece un'organizzazione dove la persona è al centro, anzi il team di lavoro è al centro, si creano questi team interfunzionali, quindi diciamo tirando fuori le persone dai silos per dialogare con i clienti, per capire che bisogni, che problemi hanno e realizzare delle soluzioni per essi, per generare valore e lo si fa lavorando in maniera efficiente. Questo come effetto collaterale porta le persone a tornare ad essere soddisfatte per quello che fanno e questo è veramente fondamentale. So già quello che stai dicendo, eh Franz, ma magari sto workshop è come al solito, magari uno che parla e gli altri che ascoltano, ma ti posso dire che in realtà questo workshop è stato pensato per mettere voi al centro per realizzare col poco tempo che abbiamo a disposizione un'organizzazione agile o comunque fare una simulazione concreta di come si può realizzare un'organizzazione agile. Per cui io penso proprio che questo sia tempo benedetto per mettere le mani su un'organizzazione evoluta. Per cui io ti rinnovo l'invito e ci vediamo al workshop organizzazione agile. Ciao!